Il tema di oggi è luce nelle tenebre e questo è uno dei suoi temi, il preferito e io credo che dopo questo sabato sarà il tuo lievissimo tema, lui pensa che è anche uno dei più importanti, ci vogliamo prendere 30 secondi di tempo per invitare il re dell'universo, potete rimanere seduti dove siete e vogliamo pregare. Lieber Vater im Himmel, caro Padre nel cielo, ti ringraziamo per questa serata meravigliosa. E adesso per la possibilità che abbiamo di imparare da te, noi ti preghiamo di donarci l'attenzione di cui abbiamo bisogno e noi capiamo che cosa tu ci vuoi dire oggi. Sei tu con noi, Amen. Rimani con noi, Amen. Wenn wir in das Universum hineinschauen, se noi guardiamo all'universo, dann finden wir natürlich unsere Erde. Naturalmente troviamo la nostra Terra. Aber wir sind da nicht alleine im Universum. Ma noi non siamo da soli nell'Universo. Es gibt auch andere Planete. Ci sono anche altri pianeti. Die Venus zum Beispiel ist fast genauso groß wie wir. Per esempio Venere è quasi così grande quanto la Terra. Momentan wird da gerade der Mars erforscht. Poi adesso viene studiata molto Marte. Und da denke ich erstaunlich, dass er viel kleiner ist als unsere Erde. Ed è bello vedere come veramente è così piccola rispetto alla Terra. Und da gibt es da noch kleinere Planete, come den Merkur. Però ci sono anche alcuni ancora più piccoli, come Mercurio. Aber natürlich gibt es auch größere Planeten. Naturalmente ci sono anche pianeti più grandi. Zum Beispiel? Per esempio Den Jupiter. Giove. Das ist unsere Erde. Qual è la nostra Terra? Auch der Uranus ist schon ganz schön viel größer. Anche Uranio è più grande della Terra. Der Neptun, der Saturn. Nettuno e Saturno. Aber... Das ist der Jupiter. Quello è Giove. Im vergleich zu der Sonne. E in confronto al Sole. Das ist unsere Erde. E quella è la nostra Terra. Was für eine große Sonne wir haben. Ma quanto è grande il Sole che noi abbiamo. Man könnte fast denken, man kann sich nichts größeres vorstellen. E uno si potrebbe pensare, non riesco a immaginarmi qualcosa che sia ancora più grande di questo. Man muss noch ein bisschen weiter ins Universum schauen. Però bisogna guardare un pochino più là nell'Universo. Das ist die Sonne. Quello è il Sole. Einer dieser Punkte hier. Uno di questi puntini lì. Ist Jupiter. E Giove. Die Erde sieht man schon lange nicht mehr. La Terra non c'è più da tanto tempo. Aber es gibt viel größere Sonnen. Però ci sono dei Soli ancora più grandi. Zum Beispiel Arcturus. Per esempio Arcturo. Dagegen ist die Sonne nur so'n kleines bellchen. E per questo il Sole qui appare soltanto come una piccola palla. Aber dann. Però poi. Ist das Arcturus. C'è Arturo. Hier. E lì. Und dann gibt es solche großen Sonnen. E poi ci sono dei Soli così grandi. Das Weltall ist unvorstellbar groß. In realtà l'Universo è immenso. Und wenn wir hineinschauen ins Universum. E se ne guardiamo ancora di più nell'Universo. Dann haben schon die größten Astronomi feststellen müssen. I più grandi Astronomi hanno già constatato. Dieses Universum. Questo Universo. Ist zu schön. È troppo bello. Und zu gewaltig. È troppo grande. Und zu complex. È troppo complicato. Als dass es einfach so entstanden sein könnte. Per poter dire che è venuto semplicemente così. Con un tocco. Per zufall. Sì. Per caso. Ich bin heute nicht hier um einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten. Schöpfung, Evoluzion. Io non sono qui per fare una conferenza per l'Evoluzione oppure Creazione. Da gibt es Leute, die viel mehr Warnung von der Wissenschaft haben. Ci sono persone che sono molto più esperti di me per quanto riguarda la scienza. Aber ich bin überzeugt, Gott ist der Schöpfer. 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 Und ich möchte das heute beweisen ganz ohne Wissenschaft. E oggi, c'è. Esiste ein Schöpfer. E quindi, lo voglio anche dimostrare oggi, senza scienza. Wenn wir in die Welt hineinschauen, sehen wir so viel Schönheit. Se noi guardiamo il mondo, ci sono così tante bellezze. Im Universum. Im Universo. Aber auch unter dem Mikroskop. Ma anche dentro il microscopio. Alles ist unglaublich organisiert und komplex. Und gleichzeitig wunderbar schön. Und nello stesso tempo meravigliosa. Wie ein Meister Künstler muss Gott diese Welt gemacht haben. Und der allererste Vers der Bibel ist der allerwichtigste überhaupt. Und so einfach, dass jedes Kindes verstehen kann. Es ist so einfach, dass auch die Kinder das verstehen können. Am Anfang schuf Gott, den Himmel und die Erde. Nel principio, Dio creu' i Cieli und die Erde. Übrigens, nebenbei gesagt. Comunque, volevo ancora dirvi. Was ist das für ein Gott? Ma che Dio abbiamo? Der so ein gewaltiges Universum unter sich hat. Der so ein gewaltiges Universum unter sich hat. Der sich für diesen kleinen Staubkorn Erde so interessiert. Aber sie preoccupiert sich über eine Erde so minuscule. Vielleicht glauben wir, wir sind der Nabel der Welt. Wir sind die wichtigsten. Vielleicht denken wir, wir sind die wichtigsten. Aber eigentlich sind wir wirklich sehr unbedeutende Universum. In realtà, wir sind wirklich insignificanti in der ganzen Welt. Also was hat Gott so besonders an dieser Welt? Allora, warum Gesù ci tiene in maniera particolare in diesem Mond? Und an uns. Die Bibel sagt. La Bibel sagt. Dass als Gott die Welt geschaffen war. Warte. Che quando Dio ha creato il Mondo. Sie sah sie seltsam aus. Sembrava un pochino strano questo Mondo. Sie war wüst. Lui era vuota. Il Mondo era vuoto. In forme. In forme e vuoto. Und es war finster. E c'erano le tenebre. Und ich kann mir vorstellen wie die Engel im Himmel. Ich kann mir vorstellen, Menschen im begins' Leben. As je am we enter hat. Als der ersten Startag. Der ersten Tag der was Sch Secret. Habe d50 Plugus gez願い ist und schaut Gesù cozy. Sie sah Chemiene. Und da sie einen vielleicht first an. Das sind die Großartig chaptersoral indulgen. Tö! Du bist ein Gott der Ordnung. Du bist ein Gott der Ordnung. So sagt es die Bibel. Wie gesagt es die Bibel. Die Bibel sagt, Gott ist kein Gott der Unordnung. Die Bibel sagt, Gott sei kein Gott der Ordnung. perché qui è tutto così caotico, vuoto Dio, tu sei un Dio della luce la Bibbia dice in 1 Giovanni 1, versetto 5 Dio è luce perché c'è tutto questo buio e tu sei un Dio della completezza perché è tutto vuoto io penso che all'inizio del mondo Dio voleva fare una parabola a Dio piacciono le parabole, le similitudini quando Dio è stato, Gesù uscita sulla terra ha raccontato sempre parabole e quello che Gesù dice è quello che pensa in realtà il Padre quindi Gesù ama le parabole e questo primo giorno della settimana è come se fosse una parabola perché noi non dobbiamo dimenticare che quando è stato creato la terra c'era già una lotta nel cielo dove Lucifero che era il portatore di luce è diventato il portatore delle tenebre perché lui l'ordine del cielo lo ha trasformato in disordine questo vuol dire che il mondo all'inizio è un simbolo per quello che Satana aveva creato ma poi dice la Bibbia che proprio nelle tenebre e nel caos lo Spirito di Dio alleggiava per poter creare qualcosa di straordinario e il versetto più incredibile di tutta la Bibbia poi Dio disse è una parola molto semplice sia la luce forse lo possiamo esercitare in tedesco lo dovete dire voi in tedesco es es verde verde licht licht insieme es verde licht fantastico 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 la cosa bella in questo punto è quello che c'è dopo es wurde licht e la luce fu e questa non è una cosa normale se Dio dice fu luce che sia la luce non è che si forma una palma oppure una scimmia la parola di Dio fa esattamente quello che dice e quando Dio dice qualche cosa allora succede esattamente quella cosa ok illustriamo questa con un'immagine se io dico lì sulla per strada c'è un elefante rosa cosa voglio dire? un ligno sarei un... 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 un bugiardo perché non c'è un elefante rosa le mie parole non hanno quella forza potrebbero soltanto descrivere qualcosa se Dio dicesse lì c'è un elefante rosa in quel momento si formerebbe un elefante rosa la forza nella parola di Dio la possiamo avere nelle nostre mani questa era la parola di Dio e ha una forza incredibile la Bibbia dice poi che tutto quello che Gesù ha fatto era come era molto buono molto buono tutto quello che Gesù ha fatto era molto buono e noi sappiamo che ha creato perfino l'uomo quindi quando Dio ha fatto l'uomo non è che ha detto semplicemente che sia un uomo quando Dio ha creato l'uomo si è piegato e ha preso della polvere e ha creato ha formato questa polvere e poi dice la Bibbia quando il corpo era ancora lì steso Gesù soffiò l'atomo nel suo naso ora praticamente i buchi del naso le radici sono molto piccole e per poter infilare dentro l'alito bisogna arrivare veramente molto vicini all'uomo Dio si è avvicinato tantissimo all'uomo per crearlo il Dio di tutto l'universo che ha creato che ha creato Giove il sole e altre grandi stelle e altre grandi stelle venne sulla terra stand in staub e si mise sulla polvere e si piegò che cosa ha Gesù con questa terra la Bibbia dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine questo vuol dire che se noi siamo creati a sua immagine noi assomigliamo a Dio e noi avremo il carattere di Dio quindi praticamente internamente ed esternamente noi riflettiamo Dio Frage wie sieht Gott aus? domanda come è Dio? was trägt Gott? che cosa ha veste? come è vestito? was für un gewand trägt er? che vestito ha? trägt er un blaues o un grünes o un blu o un verde? la Bibbia ci dice la Bibbia ci dice in Psalm 104 in Psalm 104 du der sich in licht hült wie in un gewand tu egli si avvolge di luce come d'una veste das heißt Gott trägt ein lichtgewand questo vuol dire che Dio ha un vestito di luce weil er selbst einen lichtcharakter hat er ist so rein perché lui stesso ha questo carattere di luce lui è puro nebenbei gesagt comunque bei Gott sieht man sein charakter am äußeren per quanto riguarda Dio noi vediamo il suo carattere anche dall'esterno das ist ein interessanter punto auch für uns e questo anche è una cosa a cui noi dobbiamo pensare per quanto riguarda noi stessi bis zu einem gewissen grad kann man auch in unserem äußeren unseren charakter ablesen è veramente così che anche noi all'esterno possiamo mostrare il nostro carattere Gott zieht sich so an e la Bibbia dice che noi siamo stati creati a sua immagine können wir wissen dass auch die Menschen ein Lichtgewand getragen haben possiamo anche sapere che l'uomo ha avuto anche un vestito di luce perché la Bibbia dice che loro erano nudi però non si vergognavano non avevano i pantaloni non avevano la cravatta non avevano nessuna gonna e nessuna camicetta si war nackt loro erano nudi però loro erano stati creati a immagine di Dio e quindi intorno a loro c'era la luce loro non avevano bisogno di vergognarsi e poi la Bibbia dice che Dio gli ha dato anche un meraviglioso giardino in cui all'interno c'erano tutti gli alberi possibili e immaginabili che erano piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi questo vuol dire che gli alberi sembravano erano veramente molto belli e le früchte sono unglaublich lecker ma anche i frutti sono veramente gustosi buonissimi io ho avuto il piacere di poter mangiare i fichi direttamente dall'albero oder mandorle io ho anche le mandorle che non aveva ancora avuto l'occasione di mangiare direttamente dall'albero ma qui in Eden i frutti erano ancora migliori lecker ma non soltanto questo in sprüche in proverbi noi leggiamo beato l'uomo che ha trovato la sapienza è un albero di vita questo vuol dire che l'albero della vita dava anche saggezza e viva per imparare per capire meglio il carattere di Dio quindi Dio creò un giardino con tantissimi alberi che erano molto belli da vedere che erano anche molto buoni da mangiare e che davano saggezza ok quindi andiamo avanti e Dio disse a loro mangia pure liberamente di ogni albero del giardino ma l'albero della conoscenza del bene e del male non è mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai alcune persone si possono domandare ma perché Dio ha creato questo albero della conoscenza del bene e del male ci dobbiamo ricordare di Lucifero se io non ho nessuna possibilità di scelta non ho la libertà e quindi non posso parlare veramente di amore ma Dio non ha creato semplicemente una scelta ha detto esattamente quello che lui vorrebbe voleva avrebbe anche potuto dire 50% degli alberi li potete mangiare e il 50% degli alberi sono intoccabili invece di questo ha detto tutti gli alberi sono per voi soltanto un albero non dovete toccare lo stesso Dio del cielo non avrebbe potuto creare un testo più facile di questo perché Dio dice se voi mangiate dell'albero della conoscenza del bene e del male dovete morire è un pochino è troppo stretto è un pochino sì stretto nei pensieri ripensiamoci al centro dell'albero del giardino c'erano due alberi uno si chiamava l'albero della vita e l'altro della conoscenza del bene e del male quindi se io devo scegliere fra la vita e la conoscenza del bene e del male se io scelgo la conoscenza del bene e del male contro che cosa mi decido contro la vita e che cos'è il contrario della vita tot la morte quindi vuol dire che Gesù ha detto che cosa sarebbe la punizione più grande che io posso dare se per caso toccano quest'albero Dio ha semplicemente detto se voi vi decidete contro la vita dann siete tot allora siete morti entscheidet euch nicht gegen das leben sondern für das Leben perché se voi decidete contro la vita dann siete morti ok frage domanda se io mi metto lì su quella finestra e un bambino dice scendi giù dalla finestra salta giù ma se tu salti morirei quindi se un bambino fosse lì alla finestra e lui dicesse se scendi se ti butti dalla finestra moriresti io ho dato una purizione al bambino il fatto di morire oppure no questo impedimento di Dio era semplicemente una maniera per poterlo proteggere dalla morte questo di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene dell'altro ma c'era qualcuno che aveva un programma un po' diverso da questo e ieri ne abbiamo già parlato il serpente abbiamo detto ieri che il dragone oppure il serpente è simbolo per satana e questo c'è scritto che è il più astuto e dice ad Eva ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino avrei veramente detto così Dio ma sei veramente sicuro che puoi avere fiducia quello che ha detto Dio guardate cari amici l'inizio di questo problema è proprio lì quando gli uomini hanno iniziato a dubitare della parola di Dio e la cosa interessante è che Satana non si è mostrato come Satana ma come un serpente chi ha creato i serpenti Dio conosceva Eva prima il serpente sì sicuramente e prima era molto bello il serpente e quindi Eva non ha pensato niente di negativo esattamente nella stessa maniera Satana viene nella nostra vita attraverso dei canali che non ci sembrano così malvagi e mette nostro cervello proprio questi pensieri ma è veramente così brutto cattivo ha veramente così Gesù voleva dire davvero questo ma forse voleva dire qualcos'altro Eva rispose del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate altrimenti morirete però il serpente aveva subito la risposta pronta lui dice voi non morrete affatto voi non morrete er sagt in anderen worten dice praticamente in altre parole Dio l'ha detto però quello che lui dice non è quello che voleva dire tu puoi praticamente violare i comandamenti di Dio però non succederà niente e proprio questo è quello che pensano molti di noi oggi molti dicono i comandamenti sono semplicemente dei scritti di tantissimo tempo fa dell'altro testamento dell'antico testamento e noi possiamo metterlo di lato e fare tutto quello che vogliamo e non succederà proprio niente e allora Eva ha pensato perché il serpente continua ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio conoscendo il bene il male e questo pensiero sarete come Dio da dove viene da che cosa lo conosciamo già chi ha detto io voglio essere come Dio satan nel cielo lui l'ha detto e lui ha creato e ha voluto mettere la sua ribellione nel cuore degli uomini lui ha cercato di convincere gli uomini che in realtà Dio non è così buono come sembra e ha avuto successo e anche oggi ha ancora successo la Bibbia dice siete sobri vegliate perché il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare anche oggi c'è proprio questo nella mia e nella tua vita con gli stessi argomenti e Satana dice tu non devi avere fiducia nella Bibbia fa la tua strada tu devi decidere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato sei tu devi essere come Dio tu sei il tuo Dio e Eva guardò al frutto fast hypnotizzata da queste parole di Satana e ha guardato in particolare tre caratteristiche del frutto quali erano queste tre caratteristiche era bello quanto erano le caratteristiche tre tre ok tre allora guardiamo era buono da mangiare buono da mangiare gut su essen era bello da vedere piacevole agli occhi e so so E' desiderabile per diventare intelligente. Domanda. C'era qualche cosa in questo albero che non c'era negli altri alberi. Non erano tutti gli alberi buoni da mangiare. Erano anche gli altri alberi piacevoli agli occhi. E' anche attraverso gli altri alberi, l'albero della vita, si poteva diventare intelligenti, saggi. Noi crediamo che attraverso il peccato vinciamo qualcosa. Ma in realtà il peccato è come una fata morgana. Es si è così nuovo e bello e nuovo. Ma in realtà è una confusione totale. In realtà io non guadagno proprio niente da questo. Però noi perdiamo qualcosa. Adam e Eva hanno perduto molto. La Bibbia dice, I'n fuori gli occhi. E loro ricordano qualcosa che prima non avevano visto. Che loro erano come? Nudi. Che cosa hanno perduto? La luce. Il carattere di Dio. Loro non hanno guadagnato proprio niente. Ma hanno perso tanto. E caro amico, caro amica. Se noi viviamo nel peccato, nonostante noi crediamo che vinciamo, guadagniamo qualcosa, in realtà non guadagniamo proprio niente. Ma noi perdiamo tantissimo. La Bibbia ci dice, che i nostri peccati ci separano da Dio. Noi sappiamo che il peccato è la violazione della legge. E noi sappiamo che Gott, che Dio, è la vita. E se noi ci separiamo da Dio, vuol dire che noi ci separiamo dalla vita. Io voglio cambiare qualcosa. Però se lui attaccherebbe questa presa, subito la corrente non potrebbe più passare. E fino a quando noi siamo collegati a Dio, fino a quando noi siamo collegati a Dio, abbiamo ancora la vita. Ma il peccato ci scollega, separa da Dio. E in pratica, che cosa dovrebbe succedere quando noi siamo staccati da Dio? Noi dovremmo essere morti. Se Dio fosse semplicemente giusto, e noi decidiamo, io non voglio più vivere, noi ci vogliamo separare dalla vita, allora dobbiamo subito morire. Ma Dio non è soltanto giusto. Noi sappiamo che anche ci siamo distolti dalla verità. E quindi ci dà un'altra chance. Obwohl, nonostante, noi attraverso il peccato, ci siamo staccati, il computer non si è spento. Ha ancora un pochino di batteria. c'è un tempo di grazia. E fino a quando il tempo di grazia è ancora lì e vale, wartet Gott darauf, che ci siamo ancora con Dio. Dio aspetta fino a quando noi ci ricolleghiamo a Dio. Ma noi pensiamo, è meraviglioso così. Io non ho proprio bisogno di Dio. Io effettivamente vivo ancora, posso rimanere così per sempre. ma in realtà dopo un po' la vita finisce. E la seconda chance, la chance è conclusa. Gott wünsci, che ci siamo so bald come possibile, Dio vuole che noi, il più presto possibile, ci ricolleghiamo a Lui. C'è ancora un altro interessante pensiero. Gesù dice, chiunque fa il peccato, è schiavo del peccato. Se noi pechiamo, non è che facciamo semplicemente qualcosa di sbagliato, ma noi diventiamo schiavi. e ognuno di noi, se siamo veramente sintieri, sa benissimo di che cosa sto parlando. Noi facciamo questo perché non riusciamo più ad uscirne. Forse abbiamo già sperimentato la droga, e adesso siamo esattamente lì, in questa schiavitù. Forse abbiamo avuto dei pensieri sempre più negativi e sempre di nuovo, in continuazione. E noi non abbiamo più idea di come poterci liberare da questo. Alcune persone sono... gli piace il gioco d'azzardo. E lui è un amico, che prima di convertirsi aveva una sala da gioco. E mi ha raccontato di persone che hanno dato migliaia di euro. E poi si sono... veramente hanno gioito, come se fossero dei rei, perché hanno vinto 300 euro. E hanno sempre di più, hanno perso sempre di più rispetto a quanto loro hanno, hanno vinto sempre di meno rispetto a quanto loro hanno perso. Sünde è un Weg, che è sempre più da qui. In realtà il peccato è una strada, che porta sempre più giù. E Dio ci vuole proteggere da tutto questo. Dio ci ha abbandonato. La Bibbia ci dice, che Dio ritornò dall'Università di nuovo sulla terra. E ha fatto una semplice domanda. E questa semplice domanda la fa anche a te oggi. Dove sei? Wo bist du? Wo stehst du heute abend? Dove sei tu stasera? Was è la tua situazione stasera? Wo befindest du dich? Dove sei tu stasera oggi? Im Leben della Sünde? Nella vita di peccato? E la Bibbia ci dice, che Adam e Eva si sono nascosti da Dio. Denn si schämten si. Perché loro si vergognavano. Und si hofften, quando si sono nascosti dietro l'albero, che Dio non li vedesse. Als ob man si vor dem Allmächtigen Gott verstecken könnte. E come ci si potrebbe nascondere dal Dio Onnipotente? Aber Gott geht nicht und sagt, ich weiß wo du bist. Ma Dio non va da loro e dice, io lo so dove sei. E es ist wie bei kleinen Kindern, die verstecken spielen. E' praticamente come quei bambini che giocano in nascondino. Und wo bist du denn? E poi ci si chiede, dove sei? Wo bist du? Dove sei? Warum? Perché? Gott möchte, dass wir selbst darüber nachdenken, wo bin ich denn eigentlich? Dio vuole che noi capiamo, dove sono io veramente, dove mi trovo? Warum verstecke ich mich vor dem, der niedergekniet ist um mich zu machen? Perché io mi nascondo da colui che si è piegato per crearmi. Sehen wir wie verrückt und sinnlos die Sünde ist. Ma ci vediamo, vediamo come è pazzesco, è senza senso il peccato. Übrigens, comunque, Satan, Satana, seit tausenden von Jahren, da migliaia di anni, versteckt sich ständig. Si nasconde sempre in continuazione. Er versteckt sich hinter dem König von Babylon. Si nasconde per esempio, dietro il re di Babylonia. Hinter der Schlange. Dietro il Serpente. Derjenige, der sich erhöhen wollte. Quello che si voleva innalzare. Muss sich ständig verstecken. Adesso si deve per sempre nascondere. Da vediamo come il peccato è una malattia, è malato. Und als Gott den Adam ruft, wo bist du? E quando Dio chiamò, dove sei Adam e Deva? Da sagt Adam. Adam rispose, Ich bin nackt. Io sono nudo. War er physisch nackt? Lui era veramente nudo? Nein, er hatte sich Feigenblätter genommen. No, lui veramente in quel momento aveva già preso le folle di Fico. Und hatte sich ein schönes Gleid gemacht. E si era creato un bel vestito. Aber als der allmächtige Gott ihn gefragt hat, Wo bist du? Però quando il Dio Onnipotente gli ha chiesto, Dove sei tu? Da fiel seine ganze Selbstgerechtigkeit in nichts zusammen. Allora, la sua giustizia che si era creato da solo scomparve. Vielleicht sitzt du heute hier und alle denken, du bist ein toller Mensch. Forse tu siedi qui oggi e tutti pensano, ma che brava persona. In deinem Leben geht alles wunderbar. Nella sua vita va tutto alla perfezione, a gonfe e vele. Aber wenn Gott dich heute fragt, wo bist du? Ma se di oggi ti chiede, dove sei tu? Tief in deinem Herzen. Veramente, profondamente nel tuo cuore. Forse tu sai di essere nudo. Io sono nudo. In Isaiah 64 stet In Isaiah 64 Siamo tutti come una cosa impure. Tutte le cose e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco. Avvizziamo tutti come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. E lui ha detto Chi ti ha mostrato che ero nudo? A quali parole tu hai dato ascolto? Naturalmente Adam aveva una risposta molto facile. Die Frau ist E' stata la donna. Aber nicht nur die Frau. Ma non soltanto la donna. Sondern die Frau die du Gott mir gemacht hast. Ma la donna che tu mi hai creato. Wie konntest du das zulassen? Come hai potuto permettere questo? Se tu sei un Dio amorevole nel cielo Perché hai lasciato che venisse il male? Molto spesso noi ci facciamo questa domanda E molto spesso non capiamo che in realtà siamo noi colpevoli. Prima della caduta nel peccato Adam sarebbe morto per Eva. Aber jetzt zeig da mit dem Finger auf sie. Adesso praticamente gli punta il dito Sünde zerstört Familien Il peccato distrugge le famiglie Und Ehen E le coppie Und Freundschaften E anche le amicizie Und je länger wir daran festhalten e più uno vuole resistere desto destruktiver ist das peggio E anche la donna E lo stesso problema Che tu in realtà fossi il nemico di Satana E mio amico Per questo io porrò in nemicizia tra te il serpente e la donna E ieri abbiamo visto che il seme della donna era un figlio Jesus Ed era Gesù E in Apocalisse 12-11 Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello E per mezzo della parola della loro testimonianza E non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte Quando Gesù è venuto sulla terra Nella prima tentazione Da wurde genau mit diesem punto versucht Esattamente in questo punto è stato tentato Ha detto veramente Dio che E quello che Adam e Eva hanno fatto in maniera errata E quello che tutti quanti noi in questa sala abbiamo fatto di sbagliato e compreso me Gesù l'ha fatto correttamente Lui ha detto Sta scritto Io non ho dubbi sull'amore di Dio Io non dubito della parola di Dio Perché io lo so che quando Dio dice che sia la luce diventa anche luce Dio non può non sa dire le bugie e mentire Ma Satana luce la luce la luce deve essere Quando Giovanni questo si può descrivere molto bene leggendo in questa storia dopo queste cose Dio mise la prova Abramo e gli disse Abramo e gli rispose eccomi e Dio disse prendi ora tuo figlio il tuo unico figlio colui che tu ami Isacco e va nel paese di Moria Dio dice Wissen wir, wie ein Brandopfer stattfand? Noi sappiamo come è creato un altare. Praticamente per fare questa offerta bisogna uccidere l'animale e tirare via la testa. Bisogna fare affette l'animale e poi bisogna bruciarlo sulla cenere. E Dio nel cielo dice, fa questo con il figlio che tu ami. E noi possiamo chiedere, ma Dio nel cielo come può essere così cruento, crudele? Però Dio aveva un piano. Andiamo al versetto 4. Il terzo giorno Abram alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Dopo tre giorni in cui lui camminò per tre giorni con gli occhi bassi. Perché non aveva ancora capito, ma che cosa mi vuole dire Dio? Come può permettere di una cosa del genere? E proprio l'ultimo giorno lui guardò in alto e vide il luogo. E disse, allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino e io ragazzo andremo fin là e adoreremo e poi ritorneremo da voi. Noi andremo, vogliamo andare. La Bibbia dice attraverso la fede. Fede vuol dire prendere Dio in parola. Lui non sapeva di che cosa si trattasse. Lui non capiva perché succedeva tutto questo. Però molto presto l'avrebbe saputo. In versetto 6 c'è scritto Così Abramo prese la legna per l'olocausto E la caricò su Isacco, suo figlio Poi si pressero per mano e andarono insieme. E poi in versetto 7 Da fragte Isacco, vater, was machen wir hier eigentlich? Allora Isacco chiede al papa, ma papa che cosa stiamo facendo? E noi ci possiamo immaginare come Abramo quasi non trovava le parole. Come avrebbe dovuto trovare le parole per dire a suo figlio Tu sarai l'offerta. E io spero Che nel nostro cuore ci sia una storia di questo genere. Perché noi capiamo che è una storia davvero incredibile, tristissima, perché lo è. Isacco chiede, ma dov'è l'agnello per l'offerta a Dio? E Abramo gli rispose, figlio mio, Dio provvederà egli stesso all'agnello per l'holocausto. E praticamente costruiscono l'altare. Loro lo metton insieme. Loro mettono anche la legna sull'altare. Er bindet seinen sohn Isacco. E lui lega suo figlio. Lo mette sul legno. E poi prende nella sua mano. Lo tira su con il coltello nella mano. Ed è pronto ad uccidere il suo figlio, proprio figlio. E proprio in questo momento. Abbiamo un padre. Che è pronto a dare suo figlio. L'unico figlio. E questo figlio è pronto a morire di sua volontà. Dal cielo arriva una voce e dice Abramo, Abramo. E la Bibbia ci dice che quando Abramo guardò in alto, vide un montone. Dio voleva dire qualche cosa ad Abramo. Dio aveva un problema. Dio aveva praticamente espresso un piano. Il suo piano era quello di dare il suo figlio per il mondo. Ma così sembra nessuno ha capito che cosa significa questo per il padre, per Dio padre. E Dio ha detto, Abramo io ti voglio in un certo senso far capire che cosa vuol dire per me dare in offerta il mio proprio unigenito figlio. E forse noi pensiamo, ma che storia è questa? E questo è veramente il senso della storia. Perché questa storia ci deve mostrare veramente come è cruente e crudele il peccato. Perché il mio peccato e il tuo peccato hanno portato al fatto che Dio padre ha preso il suo unico figlio che lui ha amato così tanto per non soltanto metterlo sull'altare non soltanto per tirare su la mano con il coltello ma ma lui è andato anche un passo avanti quello che Abramo però non doveva fare perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Gesù dice Abramo ha visto il mio giorno Lui ha capito sul monte veramente che cosa vuol dire morire per gli uomini noi abbiamo visto che ognuno, chiunque che crede in lui che crede in lui avrà vita eterna perché Dio ha amato così tanto il mondo questo piccolo mondo nell'universo lui era pronto a dare tutto per poter salvare noi e poi dice la Bibbia qualcosa di molto importante lui che proprio non ha neanche rinunciato al suo figlio ma ha dato tutto per noi e questo vuol dire anche tutto per te come potrebbe anche lui non donarci tutte le cose con lui io lo voglio illustrare facciamo finta che questa è la nostra vita quella che noi abbiamo ricevuto da Dio pura senza dei difetti e Dio ce la dà però noi pecchiamo e quindi noi la cortocciamo la puoi fare con forza e la nostra vita è rovinata la puoi cercare di mettere in ordine piatta come era all'inizio non importa quello che facciamo qualsiasi cosa facciamo non riusciremo mai a rimetterla perfettamente dritta piatta come era all'inizio e molte persone spendono tutta la vita per cercare di raggiustare questa vita come era all'inizio per diventare migliori loro forse spendono tutti i soldi che hanno oppure corrono nelle chiese e pensano di diventare meglio proprio andando in chiesa e loro pensano che l'Evangelio consiste in questo che Dio dica ok 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 sembra veramente molto brutto però io chiudo gli occhi io faccio finta che non fosse mai successo ma adesso mach einfach so weiter praticamente puoi continuare così come stavi facendo io non ti darò nessuna pulizione ma non è questo l'Evangelio vero Gesù dice tu hai rovinato la tua vita però io ho vissuto una vita dal primo giorno della mia vita fino all'ultimo fino alla morte senza peccato sta scritto e io ti voglio proporre qualcosa ti voglio fare qualcosa un regalo io ti regalo la mia vita e io prendo la tua e quando Dio adesso guarda a me Gesù vede praticamente in Gesù la nostra vita rovinata però quando Dio guarda a te vede la vita perfetta di Gesù lui ci darà anche tutte le altre cose Dio ti vuole dare molto di più di quello che tu possa pensare ma forse tu ti stai facendo questa domanda perché Gesù morì per me lui è morto per tutto il mondo ma perché è morto anche per me Gesù dice Gesù Cristo ti dice oggi io ti voglio bene tu sei così preziosa agli occhi miei perché non vuoi tornare da me forse tu dici no questo è troppo semplice c'era un uomo che si chiamava Saulo e lui ha combattuto contro i cristiani e forse anche questa è la situazione tua oggi o te ne che tu stai guardando su Televive tu dici questi cristiani sono troppo emozionali sono troppo semplici non può essere così quello che anche ha pensato Saulo lui era arrabbiato contro i cristiani fino ad un certo punto quando la luce del cielo è entrato e ha fatto luce nella sua vita e Dio gli ha fatto una domanda molto semplice perché mi perseguiti caro amico, caro amica stai perseguitando Gesù oggi che ha dato tutto per te Gesù Cristo ha dato per te tutto dice a Saulo io sono Gesù che tu perseguiti stai a alzati stai in piedi io io ti voglio far diventare un missionario sapete ogni uomo in realtà è un missionario quando Eva ha preso il frutto e l'ha masticato e l'ha morso qual è la prima cosa che lei ha fatto? lui ha missionato suo marito noi abbiamo spontaneamente questa capacità che noi praticamente continuiamo a trasmettere o il male o il bene e noi possiamo scegliere oggi stasera puoi scegliere se un missionario sarà un missionario per il male o vuoi essere un missionario per il bene e Paolo potete dire io non mi vergogno dell'Evangelo che cosa è successo quando Adam e Eva hanno perso la loro luce? loro si sono vergognati però lei dice attraverso l'Evangelo io posso rimanere in piedi saldo nella forza di Gesù e io non mi devo vergognare per tutto quello che ho fatto forse c'è qualcosa nella tua vita a causa del quale tu ti vergogni forse ci sono dei peccati che neanche tuo marito o tua moglie conosce che nessun uomo sa però tu sai io l'ho fatto tu puoi oggi andare via da questa sala e dire io non mi vergogno più perché Gesù è il mio Salvatore Gesù ha preso questo e lo ha inchiodato alla croce perché io penso che Dio sia il creatore? non a causa della scienza però io ho provato, ho vissuto la sua forza creativa nella mia vita io ho vissuto come la sua parola può cambiare il mio cuore nelle tenebre perché nel principio era la parola e la parola ha forza e c'è scritto in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce risplende nelle tenebre io non lo so adesso com'è il tuo cuore noi siamo quasi alla fine forse il tuo cuore adesso è nelle tenebre forse il tuo cuore adesso è in forme e vuoto forse la tua vita è molto caotica in questo momento forse hai delle relazioni distrutte o forse tu dici io non so bene come andrà avanti nella mia vita forse ti senti vuoto stasera forse ti senti vuoto stasera forse hai 500 amici in facebook però nessuno che è veramente tuo amico forse la tua vita, forse la tua vita stasera perché ci senti vuoto stasera e nelle tenebre perché ci sono dei peccati terribili forse hai delle tenebre perché ci sono dei peccati terribili qualsiasi sia la situazione oggi la Bibbia oggi è la stessa di anni e miliardi di anni fa e Dio dice oggi nel tuo cuore che sia la luce perché Paolo ci dice è quello che Dio dalle tenebre ha creato la luce lui l'ha fatto anche nei nostri cuori ha portato luce questo vuol dire che la stessa cosa che è successo nel primo giorno della creazione può succedere anche nel tuo cuore Dio ti può dare un nuovo cuore dei nuovi pensieri delle nuove motivazioni l'ultima storia per stasera c'era una signora e la Bibbia dice che è stata proprio colta sul fatto mentre stava tradendo suo marito quando tradiamo noi nella luce o nelle tenebre nascoste di notte nel buio, giusto? perché tutti abbiamo delle tenebre in nostro vita che noi preferiamo fare nel buio ognuno di noi ha dei peccati nella nostra vita che preferiamo fare nel buio dove praticamente non vogliamo essere scoperti ma questa donna fu scoperta la Bibbia dice che non si poteva neanche che si poteva neanche che non si poteva più lavare perché i farisei le persone sante la tirarono fuori dal letto e la trascinarono davanti a tutti e per tutti fu chiaro e Gesù la guarda e durante questo i farisei dicono ora nella legge Gesù ci ha comandato di lapidare tali donne la legge dice che il peccato porta alla morte e quindi allora cosa dobbiamo fare adesso? e Gesù dice ok ho capito voi avete l'interesse di giustificare di rendere giustizia al peccato? voi volete che i peccati nascosti vengono alla luce? e la Bibbia dice che lui iniziò a scrivere sulla sabbia e la Bibbia dice molto chiaramente che quando i farisei viedero che cosa aveva scritto sulla sabbia erano da loro eigni loro furono la loro coscienza fu svegliata dentro di loro perché Gesù non conosceva soltanto i peccati rivelati che si vedevano ma lui conosceva anche quelli più nascosti Gesù sa tutto e quindi abbiamo due gruppi di persone la donna che aveva tradito e i farisei in tutti i due casi vengono rivelati i peccati che avevano fatto però c'è stato un gruppo che ha lasciato Gesù, lo ha abbandonato e questa è la cosa peggiore che avrebbero potuto fare la più stupida perché se mi fosse veramente consapevole il peccato non c'è nessun altro posto migliore in questo mondo se non quello di stare ai piedi di Gesù esatto donna dove sono quelli che ti accusavano nessuno ti ha condannata Poi sapete, Gesù disse chi non ha mai peccato scadi la prima pietra c'era qualcuno questo giorno senza peccato? che c'era sì c'era, era lì Gesù Gesù avrebbe avuto il diritto di lapidare questa donna Gesù aveva anche il dovere di lapidarla perché la legge dice la transgressione, il tradire deve essere punito con la morte perché ogni peccato porta alla fine alla morte però Gesù dice qualcosa di straordinario dice neppure io ti condanno va e non peccare più come Gesù la puoi lasciare andare così semplicemente? quello che Gesù vuole dire praticamente noi non possiamo rinunciare alla legge però la pietra che in realtà ci dovrebbe colpire quella colpirà me Gesù io Gesù sono pronto per ricevere tutte le pietre che dovrebbero arrivare a te affinché tu possa essere libero caro amico, caro amica a questo giorno Gesù ha detto io sono la luce del mondo e questo vale anche per te chi mi seguirà non vivrà nelle tenebre ma avrà la luce il nostro penultimo versetto forse tu dici nel tuo cuore ma che cosa devo fare? è molto semplice se confessiamo i nostri peccati è freddo e giusto perché quando Gesù dice che sei la luce diventa veramente luce Titus 1,2 dice che non può dire le bugie è Dio e lui ci perdonerà i peccati e ci purificherà da quanti peccati, quante iniquità? ogni ogni, ciascuna, ognuna da tutte le iniquità e dice ma se camminiamo nella luce come egli nella luce allora abbiamo comunione gli uni con gli altri il sangue di Gesù Cristo suo figlio ci purifica da ogni peccato è il tuo desiderio stasera Gesù accettare Gesù come tuo personale salvatore ci fu un predicatore c'era un predicatore che aveva un giovane figlio forse aveva otto anni e loro pensarono di fare un viaggio in barca insieme e loro avevano pensato e il padre dice sì, papà, papà per favore, posso portare anche l'amichetto con me? e l'amico non era cristiano e non sapeva di Dio, non lo conosceva però il padre dice sì, certo che può venire e quindi loro praticamente si mettono su questa barca e mentre loro erano in questo lago arriva una tempesta e c'era il pastore il figlio che credeva e l'altro amico che non credeva e la tempesta inizia a buttare a destra, a sinistra, a destra, a sinistra iniziò e arrivò a un certo punto una grandissima onda e fece rovesciare l'intera barca e quando praticamente l'onda non c'era più e il pastore si è rimesso su c'erano tutti e due i figli in pericolo il suo figlio uno era di là e l'amico era dall'altro lato tutti e due non potevano nuotare e questa è una storia vera e praticamente loro avevano soltanto pochi minuti blitzschnell schaut er pasto in un seil lui guarda dappertutto e lui era rimasto nella barca e cerca una corda e la prende lui aveva soltanto una corda e il suo figlio era lì e l'amico era là che cosa avrebbe dovuto fare? tutti e due non sapevano nuotare tutti e due cercavano di prendere aria ed erano quasi annegati tutti e due chiamano cosa avrebbe dovuto fare lui e lui il padre guarda suo figlio lo guarda negli occhi e lui si ricorda in un momento a tutti i momenti che avevano vissuto insieme quanto erano belli e il suo figlio anche lo stava guardando con grandi occhi e lui prende questa corda e lo dà all'amico e con grandi occhi vede suo figlio che annega però questo pastore sapeva mio figlio è credente lui lo rivedrò nel cielo però questo amico se lui muore non avrà più nessuna possibilità nessuna chance è una storia vera questo padre è stato pronto a offrire suo figlio quindi che qualcuno qualcuno qualcun altro potesse ricevere ancora una chance potesse ricevere ancora una chance e caro amico caro amica oggi padre il Dio padre ti sta lanciando la corde se no avrebbe ha fatto morire suo figlio al posto tuo come si sarebbe come avrebbe giudito il padre se il figlio avrebbe detto no no io riesco a nuotare da solo non sarebbe stato necessario questa offerta la Bibbia dice che Dio ha offerto Gesù in tutti i casi e per ognuno di noi anche se tu lo credi o no però se tu questa corda non la prendi non puoi essere salvato vuoi tu prendere oggi questa corda o adesso ascolteremo un brano musicale Dio tanto amò il mondo intero che il suo figlio ogni genito da noi affinché chi crede in lui si salverà e non si perderà ma il suo piano capire potrà il croce si rivela il suo amor Gesù morì Gesù morì per me per te con il suo sangue lui ci ha liberato dal dolor rinnoverà rinnoverà il cuore di colui che si pentirà e lo loderà Dio tanto amò il mondo intero che il suo figlio che il suo figlio ogni genito da noi affinché affinché chi crede in lui si salverà e non si perderà ma il suo piano capire potrà in croce il croce si rivela il suo amò e noi vogliamo per un giugno e noi forse vogliamo adesso anche alzarci per una preghiera e ringraziare Dio per quello che Lui ha fatto per noi caro Padre del Cielo noi siamo così grati a te che tu sei stato disposto a dare questa grandissima offerta per noi perché tu che hai creato questo universo immenso che sei venuto su questa piccola terra e hai fatto sì hai dato a questi uomini che hanno peccato un grandissimo regalo Signore davvero tu hai forza per cambiare i cuori e noi ti ringraziamo perché tu stasera e hai parlato i nostri cuori che tu oggi ci hai risvegliato e ci hai chiamato a prendere una decisione e noi ti ringraziamo per quello che hai fatto per noi noi da soli non avremmo potuto mai farcela tutto quello che noi possiamo fare è prendere questa decisione personalmente e noi ti ringraziamo perché tu non sei il nostro Dio ma tu sei il mio Dio e il Dio di ognuno di noi e per questa personalità e noi ti ringraziamo per questa personale relazione che tu vuoi avere con noi io ti prego adesso di guidarci a casa in salute e soprattutto domani in salute anche qui fa che noi possiamo studiare domani il prossimo argomento perché noi impareremo come poter avere del continuo questa esperienza di oggi affinché noi quotidianamente possiamo vivere una vita cristiana e noi ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto per noi Amen Amen